Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Vi mostro il 18, credo nel 2014 la foto è stata pubblicata, poi questo è un mistero di cui parleremo. Condannata a 30 anni per la strage di Bologna, 18 anni gli omicidi del podiziotto Francesco Evangelista e del magistrato Mario Mato, oggi è imputato per falsa testimonianza il processo strage di Bologna. Perché Chiara Colosimo è legata a Luigi Ciavardini e perché è disdicevole che guidi la commissione antimafia? Disdicevole è un eufemismo, per me è scandaloso. Oggi è una giornata nera. È una giornata, è proprio il caso di dire che è una giornata nera per la democrazia perché nel giorno in cui ricorre l'anniversario della strage di Capaci nasce una commissione antimafia che oltre ad essere rappresentata da diversi parlamentari imputati o coinvolti in procedimenti giudiziari per concussione, corruzione, affari sporchi e questo è già una vergogna, è presieduta da questa signora che io la definirei l'underdog con i capelli corvini. È molto simile a Giorgia Meloni dal punto di vista del suo retroterra. La storia politica, la formazione. Ecco però, e questo noi domani lo racconteremo sul giornale, quello che interessa, intanto una notazione di carattere generale, queste foto noi domani ne pubblicheremo anche altre, se come dicono oggi tutti i suoi camerati di partito sono innocenti, perché questa riflette l'attività di una cooperativa che lavora nella carcere di Rebibbia e aiuta i carcerati. Questo fa Ciavardini insieme a sua moglie, no? Ecco, molto bene. Quindi è una cosa positiva, bella, nobile. Sono state tutte rimosse dal suo sito già da parecchio tempo. Allora vuol dire che ti devi vergognare di qualcosa? Questa è una notazione di carattere generale. È un sospetto, diciamo, che nasce. Sì, però, insomma, è un sospetto piuttosto rilevante, direi. Ciavardini, l'avete mostrato voi, ha una fedina penale di tutto rispetto, un terrorista vero, poi si redimono tutti, per carità. Però lei lo frequenta da gran tempo e lì quello che c'è, quello che interessa e che preoccupa è il retroterra, il milieu che c'è in questa area, uno direbbe grigia, ma questa è nera, nella quale sono cresciuti tutti questi dirigenti politici, o buona parte di questi dirigenti politici. Chiara Colosimo, appunto, conosce Ciavardini da gran tempo, lo aiuta in questa cooperativa, la cui moglie, Germana De Angelis, la cui sorella, perdonami, è a sua volta moglie di Marcello De Angelis, altro esponente di terza posizione. La moglie di Ciavardini è la sorella di Marcello De Angelis. Altro esponente di terza posizione, latitante in Gran Bretagna per lungo tempo, quindi altro estremista di destra imputato a più riprese, il quale ora è portavoce di Francesco Rocca alla Regione Lazio. La Colosimo, quindi, frequenta questo mondo da molto tempo. Oggi, non lo dice, anche questo è stato rimosso, lo racconteremo anche questo nel nostro giornale, fino a qualche tempo fa, nel suo profilo internet, il suo gruppo musicale di riferimento, sono curiosità ma la dicono lunga, si chiamava 270 Bis. 270 Bis è l'articolo del codice penale che punisce il reato di associazione terroristica. Il vocalist del gruppo 270 Bis è Marcello De Angelis, di cui parlavamo prima. La canzone preferita si intitola Claretta e Ben, è dedicata a Claretta Pedacci e a Benito Mussolini. La canzone preferita dichiara Colosimo. Aggiungo un altro elemento, e per questo parlavo dell'underdog con i capelli corvini da affiancare a Giorgia Meloni. La stessa Giorgia Meloni, e lo dico perché è nel loro retroterra politico-culturale, da molti anni, per molti anni, adesso non lo fa più ovviamente, è Presidente del Consiglio, però ha sostenuto la necessità di far luce sulla strage di Bologna, mettendo in evidenza che su Ciavardini non c'erano prove ed era innocente. organizzò nel 2004, esistono immagini, esistevano fino a qualche tempo fa su archive.org, immagini di quell'evento, in cui lei sedeva a fianco a Ciavardini per sostenere le ragioni dell'innocenza di Ciavardini alla strage di Bologna. Diciamo il punto che era vent'anni fa, le origini di Giorgia Meloni e del suo mondo sono quelle, sono innegabili, anzi loro ne vanno molto orgogliose. Di queste no però Giovanni, se rimuovono le immagini, le dichiarazioni davanti all'immagine di Codreano, pure quella è scomparsa da parte di Chiara Colossimo, con uno che faceva le flessioni perché aveva sbagliato a mettere un manifesto. Il mondo da cui vengono è quello. Ora cercheremo di vedere quanto influisce oggi questa cosa. Sappiamo che i familiari delle vittime e delle stragi hanno protestato, è il minimo che possano fare. C'è un elemento in qualche modo di sfortuna per Giorgia Meloni perché abbiamo visto il dramma dell'alluvione, lei è andata, ha fatto pure dichiarazioni molto belle perché non siamo qua a fare una passarella. I giornali li hanno riconosciuto, vediamo i titoli con cui è stata accompagnata la visita di Giorgia Meloni, li hanno riconosciuto anche un atteggiamento molto giustruttivo. Meloni abbraccia cittadini e volontari, risposte immediate, intesa, la Premier nel fango, Meloni nel fango con gli sfollati e ci sono delle immagini che hanno fatto il giro di tutti i Tg. Le vediamo insieme. Ciao ragazzi, voi non credete cosa abbiamo trovato a Ghibullo? Ve lo faccio vedere. Siamo riusciti a stringere anche la mano. Guardate che c'è Giorgia. Ciao, buongiorno. Ma che piacere, non si è mai visto neanche il sindaco di Ravenna. No, mai. Mai visto il sindaco. No. Non si è mai visto il sindaco. Nessuno. Come ti chiami? Alberto. Alberto. Siete molto bravi. Siamo facciando quello che si può, Giorgia. Cosa da mangiare è l'acqua. Molto bello, lo fate. Il problema è che poi vai a vedere Alberto cosa ha nel sito suo su Facebook. Occhi di qua. 103. Foto di Mussolini. Italiani si nasce, non si diventa. Lo straniero non sarà mai italiano. Fatelo capire alla Boldrini. Oppure foto 2. Ditemi la verità. Vi serve una mano con un commento. Ti prego, torna subito. E meglio avere un dittatore che mi dia da mangiare piuttosto che tanti politici che rubano e aiutano gli immigrati. Allora, questo filo quanto può danneggiare il paese? Vedremo dove arriviamo. Ma è una tragedia, quindi c'è poco da fare battute, ma sembra fascisti su Marte. Ora, lei è stata brava. Moelloni è stata brava, anche se con un po' di ritardo. Ha detto, la coscienza mi impone di rientrare. È andata in quei luoghi. Dopodiché, ecco, scopri questi video, ti viene il sospetto che sia tutto costruito. Io non lo voglio pensare, perché appunto voglio credere nella buona fede di Giorgia Meloni. Però vedete che il filo nero c'è. Uno un tempo diceva il filo rosso. Ma un filo nero c'è. Perché siamo partiti dalla Colosimo. Abbiamo raccontato in che millier crescono questi giovani dirigenti politici. Adesso vediamo chi li accoglie in Emilia Romagna. Vengono postati dei video. C'è una macchina della propaganda che sta lavorando. Che però gli sfugge qualcosa. La foto di Trudeau. Questa foto di Trudeau che all'inizio è uscita dappertutto. Lo vedete l'incontro con il premier canadese di cui parlavano Luca e Paolo. All'inizio è uscita dovunque perché in questo momento Trudeau le dice Guarda sono preoccupato di quello che fate con i diritti LGBT. E lei si gira dicendo che c'entra. Che ci rimane male perché obiettivamente è anche una scivolata volendo di Trudeau. Perché questi temi si concordano. Quanto la mano di Giorgia Meloni e del suo mondo riesce a controllare l'informazione e quanto lo vuole fare. Che lo voglia fare è evidente. Che ci riesca sempre no. E peraltro quando c'è in ballo un vertice internazionale naturalmente le maglie del controllo si allargano fatalmente e quindi qualche cosa ti può sfuggire. Questa è stata una brutta pagina. Una brutta pagina. Al di là del fatto che Trudeau si è, sì, d'accordo, intromesso negli affari italiani. Sì, è una scorrettezza. Ma questo capita sempre. E soprattutto ti capita se ti espori. Ma se andiamo a vedere quello che ha detto Giorgia Meloni negli anni passati di Biden col quale è stata all'ultimo vertice, all'ultimo G7, mano nella mano ha detto delle cose terribili su Biden. terribili su Macron. È normale, è naturale che sia. Però dov'è che ti devi preoccupare? Quando il tuo paese, al di là del fatto che io gliel'ho riconosciuto più volte, in politica estera, fedeltà euro-atlantica, in politica economica, rispetto dei vincoli di bilancio, il paese è in sicurezza. Ma per il resto ti devi preoccupare quando il tuo paese viene indicato come esempio negativo. Che è questo che ha fatto Trudeau. Se sei tu il baobau diventa... Ma guardate in Italia che stanno facendo. Però allora mi aiuti. Allora, diciamo, il suo tentativo di rimuovere delle vischiosità del passato diventa in qualche modo utile al paese. Perché se no, se tutti ti ricordano continuamente chi sei, chi non sei, diventa un problema di tutti noi. Meglio dimenticarci tutte le cose. Ma allora perché si sceglie questa classe dirigente? Indicato il direttore generale della nuova RAI, Gian Paolo Rossi, una persona che capisce di televisione, anche diciamo molto dentro anche alle cose RAI. Poi certo vai indietro a vedere le sue dichiarazioni, le ritrovi tutto su internet, è una mannaia. L'antifascismo aveva senso quando esisteva il fascismo, adesso è una caricatura paradossale. Con Mattarella siamo arrivati a uno stadio di evoluzione successivo della fine della nostra sovranità. Soros sta cercando di influenzare le politiche di immigrazione. L'esodo di immigrati che sta scardinando l'identità dell'Europa è un preciso disegno, la colpa di Putin. Non voler sottomettere la Russia ai dettami del nuovo ordine mondiale preconizzato da Soros. E qua andiamo al vertice della prima azienda culturale italiana. Questo è il problema vero. Io ho litigato tante volte con Giorgia Meloni, ci siamo parlati tante volte su questo. Chi continua, soprattutto dalla sua parte, a dire ridicoli questi antifascisti che gridano al fascismo. Vorrei che fosse chiaro. Nessuno pensa che le camicie nere domani marcino su Roma. Questo non lo pensa nessuno. Ma il pericolo è più strisciante. Intanto c'è un tentativo di riscrivere la storia del Paese. Perché lo stiamo vedendo in tutte le circostanze, le occasioni e le feste della Repubblica. Dal 25 aprile, adesso vedremo come andrà il 2 giugno. Ma il tentativo è quello di dire che fascismo e antifascismo alla fine si equivalevano. Però questa è una lettura storica che loro impongono. Ma è inaccettabile, Giovanni. La Costituzione italiana è nata sull'antifascismo. E questo è un dato di fatto. Diciamo, a noi ora ci dobbiamo preoccupare, dal mio punto di vista, di che conseguenze a noi arrivano. Non c'è dubbio. Proprio pratiche. Perché piano piano arriveremo a delle conseguenze dolorose. Ma non c'è dubbio. Allora, come ti stavo dicendo, messi in sicurezza quei due capitoli fondamentali della collocazione del nostro Paese nel mondo, quello che succede in politica interna, però, è appunto il tentativo di riscrivere il patto che ci lega, cioè la Costituzione. Ha una matrice storica, e quello lo dicevo già prima, la rilettura del ventennio e di quello che è successo dopo, e poi la torsione dei principi e dei diritti fondamentali, non necessariamente praticata, ma quantomeno predicata. Allora, si sono lamentati l'altro giorno delle proteste che ci sono state al Salone di Torino. Vero? Bene, benissimo. Proteste sbagliate, perché quando fai tacere e impedisci a una persona di parlare, stai sbagliando. La ministra Roccella vorrà presentare il suo libro, e non è riuscita a farlo. Ma bisognerà pur ricordare che la ministra Roccella e il governo che lei rappresenta ha, insieme ai partiti e ai paesi di Visegrad, l'est europeo, ha votato contro il principio, stiamo parlando di Strasburgo, il principio che consente l'equiparazione dei figli, delle coppie omogenitoriali e la trascrizione all'analisi. Ora ti porto su un terreno. E questo è un fatto concreto. Allora, quelli protestavano, hanno diritto di protestare? Forse sì. Vado a un piano ancora più concreto. Se questa è la classe dirigente, insomma, alla fine lei si fida di Chiara Colosimo, ha quei problemi che ora analizzeremo anche con gli ospiti che arrivano, di rapporti con un certo ambiente, che in fondo, quando arrivò il centrosinistra agli inizi, aveva anche il centrosinistra, i ricordi di Liberto, con i rapporti della Baraldini, insomma, sono vischiosità del passato, uno da una giovane magari non se l'aspetta, ma il problema può essere la classe dirigente. Il tuo giornale fa uno scoop l'altro giorno e dice il ministro Fitto, che si occupa del PNRR, dice guardate ragazzi, non ce la facciamo. Guardate le dichiarazioni, poi smentite dal ministro che ha detto fondamentalmente io non volevo dire questo che è stato scritto, sono delle sintesi inappropriate, forse riusciamo a vedere le frasi di Fitto, che comunque dice il PNRR va smantellato, gran parte non è spendibile, comporterà il definanziamento di una serie di interventi non strategici che non si realizzeranno. Allora, cosa vorrebbe dire da un punto di vista pratico e cosa vorrebbe dire per chi ci guarda da fuori, per quegli esteri che figurati a un bau bau ci aggiungono un bau bau pratico, cosa succede al piano di vista della finanza e dell'economia? Questo è un grosso problema perché, ecco, rispetto ai saldi di bilancio che li stiamo rispettando, però c'è un problema che riguarda il PNRR e il MES, il Fondo Salva Stati. Sono le due grandi questioni sulle quali dal punto di vista economico il nostro Paese non è in linea con gli accordi sottoscritti, con l'Europa e quindi con tutti i partner internazionali. Il MES perché siamo l'unico Paese che non lo ha ancora ratificato e questo crea dei problemi a livello comunitario. E il PNRR perché è il grande treno costruito, sembrerebbe quasi solo per noi perché siamo i maggiori beneficiari, 209 miliardi, per la prima volta l'Europa ha mutualizzato il debito e noi siamo quelli che potremmo approfittarne di più, non siamo capaci di attuarlo. Il ministro Fitto può precisare quello che vuole ma quelle sono le sue frasi testuali. Il PNRR va smantellato, non siamo in grado di fare tutti gli investimenti. Vesti da fuori, cosa diventa? Appunto, è la solita Italia che non è capace per ragioni burocratiche, perché gli enti locali non hanno capacità progettuale, perché siamo laschi nelle procedure, tutto quello che si vuole, però questo rappresenta per il Paese, rappresenterebbe un danno enorme anche per la nostra vita quotidiana, perché questi soldi uno sente PNRR e non capisce, vabbè, ma a me che mi viene in tasca. Sono infrastrutture, soprattutto, è sanità, la sanità è abbandonata, perché appunto quando parliamo di curvatura illiberale anche di questo dobbiamo parlare, no? I fondi per la sanità si stanno riducendo, l'autonomia differenziata spacca il Paese a metà, non ci sarà più il servizio sanitario nazionale nelle regioni del Sud, l'informazione l'hai appena detta, la RAI, il tentativo di monopolizzare quell'area, i migranti stanno modificando i principi che riguardano la protezione umanitaria, un punto di vista comporta delle decisioni. Massimo Giannini, grazie, vedete, Elena Gabanelli ora ci spiegherà.